Buon viaggio, bentrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Mauro Ciutini. Attenzione alla pioggia al momento segnalata sulla Firenze-Pisa-Livorno. Sulla A12 tra il raccordo Lucca-Viareggio e il nodo A12 in uscita provenendo da Genova un veicolo in avaria. Veicolo fermo anche sulla A1 tra Arizzo e Valdarno direzione Firenze. E per quanto riguarda i lavori programmati a Firenze il traffico è lento al momento sul Viale Strozzi da Piazzale di Porta al Prato a Viale Sparta con Lavagnini. I treni, il 19265 Parma-La Spezia è limitato a Borgotaro e il 19272 La Spezia-Parma oggi è stato cancellato per l'intera tratta. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie per la visione!